L'emozione onestamente in questo momento c'è stata perché è un atto importante per misi di scemi che ci dà il là a poter veramente parlare ormai di programmazione, di far camminare il comune con le sue gambe. È uno strumento importante, previsionale 23-25, che praticamente ci permette di fare passi avanti, sia nella mobilità, quindi nel trovare il personale e dotare gli uffici del personale, sia di tutto quello che possono essere i servizi minimi che possiamo cominciare a garantire direttamente noi ai cittadini del nostro territorio. È stato difficile, i tecnici sono impegnati e li ringrazio onestamente il nostro esperto, il dottore Taormina, così come la ragione della Caterina Fasola e le nostre due segretari che si sono succedute in questo periodo, la dottoressa Sinagra e la dottoressa Damiano, che hanno aiutato la creazione di questo previsione. È stato difficile perché il comune ancora non ha dei dati assolutamente certi su cui poter ragionare. Abbiamo cercato di lavorare su quella che è la falsa riga di tutti i dati che sono arrivati all'interno della contabilità, quindi più che un previsionale è più un accertato che un previsionale. Nel senso che ci sono margini di miglioramento enormi rispetto a quanto noi abbiamo inserito all'interno del previsionale. È stata dura più che altro perché volevamo correre. Quindi abbiamo corso perché volevamo arrivare e sennò non riuscivamo a raggiungere gli obiettivi che ci pensavamo. Sono stata resa partecipe grazie ai miei colleghi che mi hanno nominato vicepresidente di questa commissione previsionale di Milagio 2023-2025, di cui mi ritengo molto soddisfatta di questo passo che stiamo andando a fare. Certo parliamo di un bilancio che comunque è un bilancio tecnico a nostro parere, anche come abbiamo avuto modo di parlare con la dottoressa Fasola, con l'assessore Barbera. Quindi giustamente ancora vediamo molti dati che sono a zero, molti dati che varieranno durante gli anni, si presume. Quindi parlare di un bilancio è un passo avanti, non possiamo parlare di un bilancio politico giustamente. Lo spereremo di fare negli anni futuri. Sicuramente saremo favorevoli, ci mancherebbe anche perché già abbiamo votato favorevole il DUP, sarebbe un contrasto a stenerci. E inoltre dopo questo bilancio giustamente il sindaco e anche l'amministrazione dovrà accingersi a dare le risposte ai cittadini giustamente che finora chiedono in continuazione, vogliono delle risposte valide e da questo momento in poi non ci potranno essere più scusanti.